Musica allora questa sbarra non sta giù se giovia smith 4 agamatic doppelmire 1997 che sostituisce una vi posto marchisio sto registrando non è molto lunga ho il sole contro quindi non so se continuare a riprendere i passaggi sulle rugliere no vabbè li riprendo se gioia numero 4 minullo sta giusta spalla come notate se non alzare i piedi si alza sta sbarra guardate siamo praticamente arrivati è molto dobbiamo alzare ciao 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 ciao